Annalisa Valeriani, 35 anni, neomamma ma soprattutto neocomandante della Polizia Stradale di Lecco. Prende il testimone da Mauro Livolsi, un bel impegno. Ritengo un privilegio essere giunta in questa città con l'incarico di dirigente di sezione della Polizia Stradale di Lecco. Sono stata funzionario addetto per quattro anni a Brescia sotto il comando della dottoressa Barbara Barra. Nella mia esperienza professionale so di aver affrontato moltissime esperienze che mi hanno consentito di affrontare la prossima sfida che è questo nuovo incarico professionale. Peraltro Lecco conosce molti degli uomini in forza alla stradale grazie al progetto Prometeo che lei ha coordinato. Sì, sono stata responsabile, sono responsabile di questo progetto Prometeo che è un progetto dedicato alla formazione del personale. A livello compartimentale, a livello regionale abbiamo individuato sul territorio le eccellenze e le professionalità della Polizia Stradale e molte di queste provengono proprio dalla sezione Polizia Stradale di Lecco. Quindi per me è un ulteriore orgoglio, è sicuramente uno stimolo per fare bene e per fornire il mio contributo professionale in questa che sarà la mia nuova città. A Superstrada 36 avete competenza su tutto il tratto fino all'imbocco della Valtellena, una delle strade più trafficate d'Italia. Si parla del tutor all'interno del attraversamento di Lecco? Sì, è una dorsale sicuramente impegnativa che richiederà uno studio, un approfondimento necessario nei prossimi giorni. Quindi nei prossimi giorni appunto inizierò ad approfondire tutte le questioni rilevanti, le problematiche ineranti a questo tipo di strada. Le sue priorità? Sicuramente agire in un'ottica di repressione di tutti quei comportamenti che contrastano con le norme del codice della strada. Ma sicuramente è primo fra tutti intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa a livello preventivo. Ritengo che sia fondamentale sensibilizzare gli utenti sull'importanza rispetto delle norme del codice, anche perché considerate che i giovani soprattutto saranno i guidatori del domani. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.